com'è la situazione? come ho detto la situazione è grave capisco che i cittadini sono spaventati presi dal panico però il primo gradino che è quello della salute è risolto stiamo facendo il secondo gradino è quello di salvare le abitazioni quindi anche a tutti i cari concittenti montonesi devo tranquillizzare perché veramente abbiamo 20 autobotti in corso, l'elicottero sta arrivando in canadena una grande solidarietà e organizzazione da tutta l'agenzia regionale di protezione civile grazie sindaco